ciao amici sapete perché le cosce grosse sono uno dei punti più difficili da dimagrire no e vorrei tanto che sparissero da sole il problema è che non è sempre grasso cosce grosse non sempre è uguale a cosce grasse le cosce possono essere grosse per i cuscinetti di adipe o per i muscoli e io come faccio a capirlo facciamo il test delle cosce grosse se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi da seduti a terra sul letto stendete le gambe e pizzicate le cosce nella parte superiore fatto ecco il risultato uno prendete poca pelle uguale cosce grosse per il muscolo due prendete tanta pelle uguale cosce gonfie di grasso se avete tanti muscoli siate felici di essere forti e ricordate che i muscoli non si dimagriscono se invece avete ciccia poca o tanta che sia ecco le mie tre strategie antigrasso delle cosce 1 alimentazione il dimagrimento inizia dal cibo e la regola d'oro è semplicità eliminare i cibi raffinati industriali gli zuccheri grassi animali preferire proteine magre o veg frutta e verdura fresche semi oleosi cereali integrali 2 movimento il movimento attiva il metabolismo solo così si bruciano i grassi niente allenamenti intensivi ma 20 minuti ogni giorno a ritmo sopportabile e poi camminare ogni giorno per 20 30 minuti a passo svelto per stimolare gambe e cosce 3 idroterapia cosa c'entra fare il bagno adesso l'idroterapia è una terapia a base di acqua è una doccetta alle gambe che alterna getti di acqua calda e fredda tonifica in fretta i tessuti e la gamba appare presto più tonica si fa così seduti nella vasca in piedi nella doccia alternare ogni 30 secondi getti di acqua prima calda e poi fredda farlo per 5 minuti mattina o sera con questi consigli le cosce saranno più toniche snelle e dimagriranno in fretta se si dimagrisce nel modo giusto i chili di troppo non tornano più altrimenti conosciamo tutti l'effetto io io sì io ne so qualcosa fate il test provate questi consigli e buon dimagrimento a tutti se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato ed eccolo il regalino di oggi il pdf lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto dalla piccola i qui in alto commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali